we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi settimana numero 7 oramai se n'è andata ragazzi mancano le ultime tre dopodiché la season si potrà considerare ufficialmente finita mamma mia tra poco cominceranno i leaks relativi alla stagione numero 9 ragazzi ma nel video di oggi ci sono comunque un sacco di novità ragazzi torneranno gli aerei ve lo posso finalmente confermare un sacco di dettagli che andrò a farvi vedere anche delle immagini che vi confermano quello che ho appena detto ma anche il nuovo nuovissimo deltaplano scoperto da poco se avremo tempo ve lo farò vedere perché è davvero molto particolare e anche il nerf alla girosfera ai 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 la mia palletta che tanto mi ha accompagnato per le qualifiche alla world cup subirà un importante nerf però prima di andare nel video voglio ringraziare un sacco di voi perché utilizzate il mio codice creator xyuderone grazie di cuore per il mega supporto al canale mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento sui miei video e sulle mie live però prima ma prima raga la domandina ve la devo fare ragazzi ve la devo fare è una domanda che volevo farvi a inizio season ma avevamo detto aspettiamo di viverla un po questa stagione 8 prima di chiedervela ufficialmente e allora ve la faccio adesso qual è la tua season preferita adesso dai la season 8 possiamo includerla nel gruppo delle 8 stagioni presenti su fortnite se volessimo escludere la prima anche se qualcuno magari può apprezzare più di tutte la prima qual è quella che ti è piaciuta di più proprio in assoluto pensa un po alle schiena agli eventi ai cambiamenti alle armi ai veicoli inseriti insomma tutto quello che ti viene in mente la mia ragazzi anche se la season 8 mi piace tantissimo per chi non lo sapesse è la season numero 6 davvero meravigliosa a parer mio per il comparto che vi ho appena detto quindi bellissime le skin bellissima l'ambientazione gli eventi e come si è evoluta tutta la season giorno per giorno le case che cambiavano le cose che succedevano insomma nel cuore per me la season numero 6 ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito a parlare a un colpo al cuore per il povero studer alla girosfera ragazzi innanzitutto la notizia bella è che sia nelle qualifiche sia nella finale delle world cup i veicoli ci saranno o perlomeno la girosfera c'è arriva però ragazzi un post ufficiale su reddit da parte di epic games che dice abbiamo deciso di rilasciare un piccolo aggiustamento alla girosfera quindi la salute della stessa da 300 punti scende a 200 ci sta ci sta ragazzi bisogna stare ancora più attenti se decidete di giocarvela camperazzando di prepotenza come il sottoscritto attenzione perché i punti salute diminuiscono veramente un bel po ma andiamo avanti ed eccola qua ragazzi un'immagine che è rimasta nella mente di tutti i giocatori della season numero 7 che appunto visto l'introduzione del velivolo quindi gli aeroplani che mai esistevano su fortnite beh ragazzi tolti nella season 8 arrivano degli elementi che sono davvero incredibili guardate un po ragazzi questi sono tre che cacchio sono le scritte sì 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 sono tre righe di codice che ci dicono air royal background air royal 512 e air royal wings vediamoli in ordine ragazzi air royal background è questo praticamente se non erro questo dovrebbe essere lo sfondo ufficiale di una prossima news che verrà pubblicata proprio nella dashboard nella sezione notizie che annuncerà il ritorno degli aeroplani all'interno di questo background ci sarà questa immagine air royal 512 la seconda voce quindi l'aeroplano non sappiamo ancora la descrizione ma abbiamo degli elementi super interessanti trovata una skin per gli aeroplani e ci sta un botto perché per chi ha un po di diciamo dimestichezza con quello che può riguardare la storia vera del mondo negli anni 40 50 quando c'erano diciamo gli aeroplani da guerra i bimotore quando si combatteva i piloti tendevano molto a pitturarli e quella che vi sta facendo vedere era proprio uno dei disegni più in voga che si utilizzavano nell'aeroplano quindi verrà riproposto anche su fortnite ma arriva anche una figata ragazzi you've completed an air royal challenge enjoy your reward quindi sappiamo che arriveranno delle sfide con gli aeroplani e addirittura avremo dei premi volete che vi dico il premio se mi dite di no ve lo dico lo stesso penso ragazzi che tra i premi ci sia questo ed è molto palese che si tratta di uno standardo ragazzi dovrebbe essere il premio per avere completato le sfide della air royal non sappiamo altro per il momento sappiamo che potrebbe essere o una ltm o delle sfide che però secondo me non andranno ad intaccare il battle royale classico quindi ovviamente appena avrò delle informazioni extra le avrete anche voi ma andiamo avanti e parliamo un secondo della skin che vi avevo fatto vedere nel video di ieri l'inferno bundle dovrebbe chiamarsi sapete chi avevo detto ci saranno i vbucks gratis o comunque i vbucks compresi nel bundle beh ragazzi abbiamo delle informazioni extra ed eccole qua finalmente abbiamo delle descrizioni per quello che riguarda i premi che ci verranno dati completando le daily challenges quindi le sfide giornaliere da quello che ci fa capire questa immagine sono esattamente identiche a quelle del dark cupid vi ricordate quindi in poche parole non dovrete fare nulla le sfide dell'inferno bundle sono semplicemente completabili facendo le sfide giornaliere quindi una sfida giornaliera 100 vbucks 3 sfide 200 vbucks 5 sfide 300 7 sfide 400 e ci danno 1000 vbucks quindi già il pack vale la pena per essere preso perché costerà a questo punto immagino 19,99 ma con 1000 vbucks vi costa 9,99 in poche parole ma alla decima sfida giornaliera ci danno il piccone e alla quattordicesima la skin per armi e veicoli quindi ragazzi tanta roba anche per questo nuovo bundle ma chiudiamo facendovi vedere questa immagine che è proprio relativa al nuovo deltaplano e sono molto molto convinto che sia il deltaplano dei samurai ragazzi ve lo voglio però prima di chiudere far vedere anche in game ecco qua ragazzi uno spezzone preso da youtube si chiamerà falcon non sappiamo bene penso che sia falcon però è falcon quindi è falcon ed eccolo qua ragazzi in tutta la sua tutto il suo splendore e splendevolezza non penso che si usa forse ci usa anche la splendevolezza si fa vedere ragazzi come il nuovo deltaplano che ha rarità leggendaria da quanto si vede in questo video quindi ragazzi si vociferava però anche dell'arrivo prossimo di un possibile piccone leggendario ma non abbiamo ancora foto né nulla quindi non voglio allarmarvi per adesso ma sappiamo che arriverà un altro deltaplano leggendario beh ragazzi per oggi io vi ho detto un sacco di news spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale codice creator xuderone noi ci vediamo alle 13 live ciao